Antonini, perché bisognerebbe guardare fuori gioco? Cosa cambia dal 9 settembre? Ma guarda, non è che c'è tanto da vedere. Per uno stile di trasmissione così, come vedi qua, c'è uno stile di conduttore del genere, può accompagnare solo. Io so già tu che cosa dirai, stretta e forte alle braccia di lui. Stai sicuro, non ti ho mai gradito, mentre invece penserai alla storia. Fuori gioco, puoi accompagnare solo.